In tutto il mondo ci si interroga su cosa deve essere un museo del XXI secolo. Questo magro e anche lo stesso Pala Expo nella direzione che adesso ha assunto Cesare Pietro Giusti, diciamo alla direzione ci sono degli artisti. Cioè stiamo segnalando anche che l'epoca del management della cultura forse ha fatto il suo tempo, a noi ci interessa altro. Il magro torna a essere il museo della città, torna a essere un posto aperto, non si paga il biglietto, lo si può attraversare per andare da Venezia per Reggio Emilia, si può prendere il sole in terrazza, si può seguire quello che avviene qui dentro. Ci siamo ripresi un pezzetto di città, un pezzetto di istituzione. Ma ci voleva il concorso, benissimo, fate il concorso, io non sono contrario al concorso, semplicemente io non avrei mai partecipato perché non è nelle mie ambizioni e nella mia professione concorrere per fare il direttore di museo. Sono stato invitato da Luca Bergamo a qualche modo riproporre questo miracolo che è successo sulla Prenstina. Dentro uno spazio abitato da 200 migranti e precari è nato un vero e proprio museo cittadino con 500 opere d'arte e lì abbiamo, come dire, creato questo grande cortocircuito, cioè unire il punto più alto, c'è il museo d'arte, proprio il fiore all'occhiello delle città, e il punto più basso, lo slam, la polvere sotto il tappeto. Ho ripensato il macro portandomi chiaro ovviamente un po' dell'esperienza del MAM, perché le cose uno le impara sul campo. L'idea come al MAM era di fare incontrare parti di città che non si parlano, in questo caso lo specifico del museo mi invita a far parlare gli artisti con i cittadini. È anche una piazza, è la casa degli artisti, è un museo abitato in qualche modo anche questo, perché è stato trasformato in stanze e in queste stanze lavorano con un loro calendario giornaliero. Abbiamo tolto la mostra, che è la formula classica, che però blocca il museo per tanti mesi, costa soldi che il museo non ha e quindi di fatto alla fine si riduce a fare l'affittacamere di privati. È una specie di grande, come dire, laboratorio, dove si studia, si cerca di mettere in connessione le esperienze, le intelligenze, le visioni del mondo. C'è la possibilità di collaborare tra gli artisti, cosa assolutamente vietata, perché gli artisti sono perennemente in competizione uno con l'altro, ma anche la possibilità di collaborare con altre discipline. Qui stiamo invitando i filosofi, stiamo invitando gli economisti, stiamo invitando gli scienziati. Tanti saperi che devono però ritrovarsi un po', no, sapersi parlare. Questo è un posto dove io mi auguro le persone escano con più domande, ecco. È proprio una missione per me, quindi insomma qui cerchiamo di complicarci la vita il più possibile. Difficoltà ne abbiamo tantissime, lavoriamo con budget pressoché inesistenti. La maggior parte delle attività che noi possiamo ospitare sono attività volontarie, cioè si lavora anche qui molto con la logica del dono. Il punto di forza di questa debolezza è che chi viene qua ci crede. È un lavoro che stiamo facendo di connessione importante, insomma, in città e che darà i suoi frutti al di là dei numeri mensili dei visitatori che qui non esistono. Cioè qui è partecipare a un progetto, costruirlo insieme. L'ho chiamato asilo anche perché, non solo perché è ospitale, ma anche perché gioca, come dire, con le regole diverse del mondo degli adulti. Allora, il mondo degli adulti è quello che il sistema dell'arte ci racconta, cioè lo sappiamo, no? Cioè coefficienti di mercato, passaggi d'asta, art price e via discorrendo. noi siamo, come dire, bambini, quindi giochiamo al gioco dell'arte.